Tre location prestigiosi, un mese e mezzo di eventi, 200 musicisti provenienti da tutto il mondo. Sono i numeri della settima edizione del Francigena Arts Festival, la manifestazione ideata da Marco Lardieri, sostenuta dal comune di Alto Pascio. La cittadina del Tao, insieme a Capannori e la Piana di Lucca, diventano per oltre un mese uno dei centri mondiali più importanti per il perfezionamento, lo studio e lo scambio culturale della musica, ma a condire il festival ci pensano gli eventi aperti al pubblico, in piazza ospitalieri. Anche quest'anno sono molto contento per la grande partecipazione, sia per le masterclass che per il festival. Grande qualità, il 31 luglio abbiamo Daniel Rivera e Chiara Morandi, abbiamo Lucilla Mariotti, diretta da Rosella Isola il 20 luglio e tanti altri concerti. Sono anche molto contento quest'anno dalla grande partecipazione alle masterclass con ragazzi che vengono da tutto il mondo. Proprio questa mattina abbiamo ricevuto altre due iscrizioni dal Perù, una dagli Stati Uniti, e già le abbiamo avute nei giorni precedenti da Russia, Canada e i vari paesi d'Europa. Siamo alla settima edizione di questo importante festival che racchiude dentro di sé tutti gli elementi più importanti di questo territorio. la Francigena, unendo i comuni di Capannori e Alto Pascio in queste iniziative, la cultura e la musica in un territorio come quello di Lucca, che è famoso nel mondo per la musica, e oggi Alto Pascio diventa polo attrattivo di molti artisti da tutto il mondo. E questo ci rende molto orgogliosi e molto felici. Grazie a tutti.